Salute! Oggi vedremo un esercizio di ripasso su quanto imparato finora a proposito dei moti nel piano. L'esercizio è tratto dal primo volume del libro Quantum della serie editrice. Leggiamo la traccia. Una particella si muove nel piano XY con accelerazione costante di componenti 4 e 3 metri al secondo quadrato. All'istante t uguale 0 secondi la particella si trova nella posizione 4 e 3 metri e la sua velocità ha componenti 2 e meno 9 metri al secondo. Calcola il modulo della velocità dopo 2 secondi e il modulo è la direzione del vettore posizione dopo 4 secondi. In questo esercizio ci vengono date le componenti dei vari vettori. Allora quando ci vengono date le componenti significa che chi ha preparato l'esercizio ha già scelto per conto nostro il sistema di coordinate e quindi noi dobbiamo basarci su quello. Questi che vedete qui sotto sono i dati che ci sono stati forniti. L'accelerazione vedete è costante qui abbiamo due numeri e al passare del tempo e della posizione l'accelerazione è sempre la stessa quindi già possiamo anticipare che si tratta di un moto con accelerazione uniforme. Inoltre a t uguale a 0 abbiamo questa posizione nella quale si trova il punto materiale la particella e questa è la velocità che possiede sempre a t uguale a 0. Il diagramma qui sotto rappresenta la situazione a t uguale a 0. R0 questo qui è il vettore posizione e v con 0 è la velocità posseduta sempre a t uguale a 0. L'accelerazione a sarà invece la stessa lungo tutta la traiettoria della particella traiettoria che al momento ancora non conosciamo e che determineremo tra un po'. Abbiamo imparato nelle lezioni precedenti che se l'accelerazione è un vettore costante allora siamo in grado di conoscere istante per istante sia il vettore velocità che il vettore posizione e le relazioni che ci consentono ciò sono queste scritte in rosso. In questa espressione è evidente che la quantità t con 0 che appare in queste formule è l'istante di tempo in corrispondenza del quale si conosce sia r0 che v con 0. Quindi nel nostro caso t con 0 è proprio 0 e in corrispondenza di questo 0 v con 0 è questo vettore r0 è questo vettore. Il vettore v con 0 appare due volte, una volta nella equazione della velocità e un'altra volta nella legge oraria. A questo punto occorre semplicemente sostituire r0 e v con 0 in queste espressioni, al posto di t con 0 mettiamo 0 e possiamo immediatamente rispondere alla prima domanda. La prima domanda riguarda il modulo della velocità dopo due secondi. Possiamo subito rispondere che per t uguale due secondi ho esplicitato v con 0, ho esplicitato l'accelerazione, al posto di t ho messo 2, ho moltiplicato questo vettore per 2 e ho ottenuto il vettore 8, 6, lo sommo al vettore 2 meno 9 e trovo 10 meno 3 metri al secondo. Quindi queste due sono le componenti del vettore velocità a due secondi. Se sono interessato al modulo allora applico la definizione di modulo del vettore, sostanzialmente si tratta del teorema di Pitagora, elevo al quadrato questa quantità, la sommo a quest'altra elevata al quadrato e prendo la radice quadrata. Il risultato è 10,4 metri al secondo. Per la seconda domanda, ritorniamo sulla traccia, vuole sapere la direzione del vettore posizione dopo 4 secondi. Per rispondere all'altra domanda vado a considerare l'equazione oraria. Questo qui è il vettore R0, questo qui è v con 0, t vale 4, questa qui è l'accelerazione, questo è t al quadrato, 4 al quadrato. Eseguo questi semplici calcoli e trovo che il vettore posizione a 4 secondi vale 44 e meno 9, componenti misurate in metri. Per quanto riguarda il modulo del vettore posizione, faccio ancora la stessa cosa che ho fatto prima, elevo al quadrato le componenti e sommo e prendo la radice quadrata e trovo questo valore. A t uguale 4 secondi, questa è la posizione della particella e il vettore R a 4 secondi ha componenti 44 e meno 9, quindi grosso modo si trova qui. Che cosa si intende per direzione di un vettore? Con il termine direzione di un vettore si intende l'angolo che forma rispetto a qualche altro vettore o a qualche altra retta presa come riferimento. In questo caso non ci viene detto quale sia questa direzione di riferimento, allora in questi casi prendiamo come direzione di riferimento uno dei due assi coordinati. In genere si prende l'asse x ma nulla ci vieta di prendere l'asse y. Quindi si tratta di quest'angolo. L'angolo tetta è l'arco tangente del rapporto tra le componenti del vettore R. Cioè questa qui, y, diviso quest'altra, la componente x del vettore R. Il calcolo l'ho eseguito qui. L'ordinata vale meno 9, l'ascissa vale 44 e quindi trovo quest'angolo. L'esercizio è terminato. Quindi era piuttosto semplice. Però adesso proviamo a svilupparlo ancora un po', proviamo a rispondere a domande che non ci ha posto. Per esempio avrebbe potuto chiederci qual è la direzione del moto a t uguale 4 secondi. La direzione del moto a cui ci riferiamo adesso è la direzione del vettore velocità. A t uguale 4 secondi la particella ha questo vettore velocità. E come faccio a sapere quanto valgono le sue componenti? Prendo l'equazione della velocità, al posto di t ci metto 4 secondi, svolgo questi calcoli piuttosto semplici e trovo 18,3. Qual è la direzione del vettore V? Ancora una volta possiamo riferire la direzione di questo vettore a quello dell'asse x. E quindi l'angolo alfa che adesso vado a determinare è l'angolo che questo vettore forma con questa retta che è parallela all'asse x. E quanto vale alfa? Ancora una volta l'arco tangente del rapporto dell'ordinata e dell'ascissa del vettore in esame, in questo caso se faccio questi calcoli trovo che è 9,5 gradi. Un'altra domanda che potrebbero chiederci è di trovare l'equazione cartesiana della traiettoria. In realtà l'equazione della traiettoria già l'abbiamo ed è questa qui. Però questa equazione non è nella forma cartesiana, ma è in quella forma chiamata parametrica. Questa equazione vettoriale equivale a queste due equazioni. Vediamo che il moto della particella, in questo caso molto semplice e banale, sembra avvenire secondo due direzioni tra loro indipendenti, una sull'asse x ed un'altra sull'asse y. Ricordatevi che questo non è sempre vero, anzi non è vero quasi mai. Soltanto in casi molto semplici possiamo avere questa banale scomposizione dei moti. Quindi qui abbiamo la componente x del vettore posizione e la sua componente y al passare del tempo. Ciò che vogliamo ottenere è invece una relazione che lega soltanto x e y, indipendentemente dal tempo. Adesso vi mostro come ciò viene fatto. Quello che mi accingo a fare è trovare t da una di queste equazioni e sostituirla nell'altra. Allora vediamo come si procede. Prendo la prima equazione e la moltiplico per 3 mezzi. Da dove esce fuori 3 mezzi. 3 mezzi è questo 1,5 che trovo qui. Poi prendo la seconda equazione e la moltiplico per 2. Da dove esce questo 2? Il 2 è questo. Perché faccio così ancora non è evidente ma lo sarà tra un po'. Dopo aver moltiplicato la prima equazione per 3 mezzi trovo questa. Dopo aver moltiplicato la seconda equazione per 2 trovo quest'altra. E adesso si capisce che cosa ho fatto. Qui notate la presenza di 3t al quadrato e ora posso sottrarre la prima equazione dalla seconda equazione dalla seconda equazione dalla seconda equazione dalla seconda equazione da questa ricavo che t è 3 mezzi x meno 2y tutto fratto 21. Il gioco è fatto perché adesso devo prendere t e sostituirlo o qui o qui. Quello che trovo è una equazione in cui appaiono soltanto x y e quella è l'equazione cartesiana della traiettoria. L'equazione del luogo geometrico traiettoria di quel punto materiale soggetto a quella accelerazione e che ad un certo istante si trovava in una certa posizione con una certa velocità. Io ora dovrei fare tutti questi calcoli, sostituire t qui dentro è un'operazione che dura qualche minuto, non è complicata, ve la lascio come esercizio. Per arrivare allo stesso risultato adesso però farò qualcosa di diverso e forse anche più interessante. Cioè mi avvalgo del programma GeoGebra così vi faccio vedere come è realmente fatta questa traiettoria e possiamo anche capire alcune cose che guardando questa equazione è anche l'equazione cartesiana della traiettoria. Ecco qui abbiamo GeoGebra e quello che desidero fare è proprio rappresentare graficamente la traiettoria così come l'abbiamo determinata svolgendo l'esercizio. Vado a inserire appunto la traiettoria ma in forma parametrica. Ciò viene fatto attraverso il comando curve. Io sto usando la versione inglese di GeoGebra. Se tu usi quella italiana il comando sarà curva. Ora devo dirgli qual è il parametro e in questo caso il parametro è t e poi devo dirgli i limiti in cui varia t. Noi conosciamo la posizione a t uguale a zero e quindi ci metto zero virgola e poi diciamo 50 seguiamo un po il moto per 50 secondi. In alto vedete l'espressione parametrica della traiettoria e in basso vedete la traiettoria. Riuscite a capire di che si tratta? Beh vi anticipo che si tratta di una parabola. E perché non continua da questa parte? Non continua da questa parte perché gli ho dato come limite 0 50 secondi. Se volessi ottenere l'altro ramo della parabola allora vado qui e inserisco meno 50. Ecco abbiamo trovato questa traiettoria. È una sorpresa aver ottenuto una parabola in questo esercizio. Chi mi segue sa che non è affatto una sorpresa. Ogni volta che abbiamo un moto con accelerazione costante l'accelerazione è un vettore costante e la velocità iniziale è un vettore che non è parallelo all'accelerazione il moto risultante sarà sempre una parabola. Nel caso in cui invece la velocità iniziale quella conosciuta per esempio a t uguale a zero è diretta nella stessa direzione dell'accelerazione allora il moto sarà uniformemente accelerato ma la traiettoria sarà una retta. Ora voglio mostrarvi come posso facilmente ottenere l'equazione cartesiana di questa traiettoria. la parabola è una conica e la conica nella sua espressione nella sua forma più generale può essere determinata in maniera univoca a partire dalle coordinate di cinque punti ed è quello che io adesso vado a fare quindi vado a selezionare cinque punti su questa parabola e GeoGebra mi fornirà proprio l'equazione vediamo un po prendo un punto qui 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 ecco questa è l'equazione che tu dovresti ottenere se risolvi l'esercizio che io ho lasciato in sospeso. Ritorniamo di nuovo all'esercizio come vedete questa parabola come tutte le parabole ha un'asse di simmetria non solo ma la particella parte da t uguale a zero più o meno da qui e poi procede in questa direzione. Una domanda che potrebbero chiederci una volta che abbiamo capito che si tratta di una parabola è in quale istante di tempo t il punto materiale la particella passa per il vertice della parabola quindi questa parabola vedete ha un vertice il vertice si trova all'intersezione di questa traiettoria della parabola con l'asse di simmetria. Come facciamo a trovare le coordinate di questo vertice? Un modo è quello di studiare l'equazione cartesiana che abbiamo visto poco fa che è un'equazione piuttosto complicata da gestire visto che non è la solita equazione della parabola a cui eravamo abituati. Compaiono dei termini anche con y al quadrato e con x y quella è piuttosto laboriosa da gestire. Io adesso vi mostro un modo fisico per giungere a questa risposta. Intanto fatemi notare che l'accelerazione è diretta in ogni punto in modo parallelo all'asse di simmetria quindi la nostra accelerazione 4 3 che ci ha dato il testo è sempre diretta lungo la traiettoria in modo parallelo all'asse di simmetria. In particolare in questo punto l'accelerazione e la velocità sono tra loro perpendicolari. E allora posso imporre questa condizione scrivo il prodotto scalare tra i vettori a e v lo impongo uguale a zero e seguo questi calcoli 2 più 4t è la componente x della velocità meno 9 più 3t è la componente y della velocità. Eseguo questo prodotto scalare sappiamo tutti come si fa. Si moltiplicano questi due componenti e poi si sommano. Trovo 25t meno 19 e quindi trovo che t vale 0,76 secondi. Quindi ho trovato l'istante di tempo in corrispondenza del quale la particella transita per il vertice della parabola. E quanto vale il vettore posizione? Nell'equazione oraria al posto di t inserisco 0,76 e trovo questi valori. Ritorniamo un attimo alla traiettoria. Avete notato che espressione complicata che assume. D'altra parte noi siamo abituati a equazioni molto più semplici a proposito delle parabole. E perché l'equazione a cui siamo abituati è molto semplice? Perché l'asse y è stato scelto in modo parallelo all'accelerazione. Dovreste facilmente notare che se questa traiettoria è riferita a quest'asse y e a quest'asse x l'equazione risulta essere piuttosto semplice. E allora come esercizio vi propongo di trovare l'equazione dell'asse di simmetria della parabola. Ed è facile perché avete capito che la direzione di quest'asse è la stessa dell'accelerazione e conoscete le coordinate del vertice. Quindi si tratta dell'equazione di una retta che passa per un punto e di cui conoscete il coefficiente angolare o potreste conoscerlo. Inoltre vi chiedo di provare a trovare l'equazione della traiettoria di questa parabola in un sistema di coordinate in cui il vertice si trova nell'origine del sistema di coordinate. Il sistema di coordinate è questo qui in blu, questo è l'asse y e questo è l'asse x. Quindi supponete che il vertice si trovi proprio nell'origine e nello stesso tempo l'asse y è parallelo all'asse di simmetria. In questo nuovo sistema di riferimento questa parabola acquista l'espressione un numero di x. Quindi in questa nuova situazione in questo sistema di riferimento yx questa parabola acquista l'espressione y un numero chiamiamolo c per x al quadrato quindi si tratta di capire quanto vale c in questo sistema di riferimento. Vi do un suggerimento dovete usare sempre questa soltanto che ora t con 0 è l'istante di tempo in cui la particella transita per il vertice r0 nel nuovo sistema di coordinate visto che il vertice coincide con l'origine vale 00 dovete semplicemente esplicitare v con 0 ed a. Le coordinate di v con 0 le abbiamo trovate prima nel vecchio sistema di coordinate nel nuovo invece ha diversa da 0 solo la componente x e per quanto riguarda l'accelerazione nel sistema di coordinate vecchio nel nuovo sistema di coordinate in cui l'asse y è parallelo all'asse di simmetria a uguale a 0 la componente x se avete dubbi scrivete nei commenti e vi risponderò appena possibile alla prossima